Perché è importante partecipare a questo convegno? Estremamente importante perché prendersi cura di una persona non è soltanto un discorso tecnico e legato all'erogazione dei farmaci, ma anche alla possibilità di condivisione, di empatia che si viene a creare e quindi di fiducia e di tranquillità che si può dare al paziente. Il mio intervento sarà basato prevalentemente sulle comunicazioni col bambino delle sue malattie, quindi è importante coinvolgerlo, o della malattia di un genitore, perché anche in questo caso, essendo parte essenziale della famiglia, è giusto che il bambino venga messo debitamente, secondo la sua età, al corrente di quanto sta succedendo. La poesia, l'arte, tutte manifestazioni estremamente significative e importanti nell'ambito di questo convegno, di questo approccio e di questa modalità.